Pronti, andiamo, traschiudo, via, ora, con il suo senso, uomo, tira dentro, via, scape mano, braccio a lei, braccio a noi, traschiudo, trasportiamo, via, tiro, ora, ruota, avanti l'intervallo, dietro, esi, traschiudo, trasporto, faccio mano al gesto, uomo, braccio a lei, braccio a lei, ora, traschiudo, che si chiede, ora, tira, e fatevi un po' di caldo, allora. Pronti, la, 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 la. Grazie a tutti. Ok ragazzi, grazie, grazie a tutti, vi pregetto Sire che l'avevo presentato all'inizio dello stage, Sire è la nostra insegnante nella scuola di Modena e se potuto passare un applauso a Maurizio Balboni, ragazzi benvenuti a Mascara, buona stanza, buon divertimento. Sire che l'avevo presentato all'inizio di Modena e se potuto passare un applauso a Maurizio Balboni, ragazzi benvenuti a Mascara, buon divertimento. Sire che l'avevo presentato all'inizio di Modena e se potuto passare un applauso a Maurizio Balboni, ragazzi benvenuti a Mascara, buon divertimento.